Allora, siamo con i chat così camminati, ma come stavano? C'è un'altra cosa qua? Non ho fatto più in una farmacia, ho fatto un'altra settimana che avevo avanti, ho fatto ordinare già un anno, ho fatto ordinare qualcosa che ho fatto forte, ho detto probabilmente quelle cose là, ma no no, ho detto che non ho sapere antipiotici, ne ho, ho fatto più dai, ho in una farmacia, ho rispetto, l'altra farmacia era a mezzogiorno, un quarto, e ho trovato fuori, e se così stavano parlando, e appunto mi ha detto da questa Federica, che mi ha detto, è un film, un altro, posso mi ha detto, è un film d'autore, culturali, che te che hai visto, un po' domani ti sei salto e smette no, cioè, non è perché tutti i film devono essere per forza, chissà quale, film storico, berlaska, tutte quelle dichiarate sono lavori ecologici, sono ascoltate, e non ho pensato, non ha alcuna importanza di in ritroversaxi, non questo semplice, nessun non vi dimentico, con una prof wolica di Mediterranea, ci hai parlato ieri, però hai chiamato tu? No...